Gli atomici in questo pomeriggio presentano qui a Dostuni il loro ultimo lavoro dal titolo fuori dal bunker come è nata un po' questa quest'idea per questo vostro nuovo cd allora diciamo che questo è in realtà il terzo disco ma in realtà il primo da autoprodotti quindi fuori dal bunker rappresenta un po' la nuova tipologia di studio che abbiamo affrontato con i ragazzi nuovi che ci fanno le basi che lavorano con noi a livello musicale e quindi è un sound totalmente diverso, più raffinato, più curato che tende a dare un netto taglio con il passato degli atomici anche se in realtà tutto appartiene a noi quindi ce lo portiamo avanti con piacere. Fra gli album, fra le tracce audio che ci sono in questo album abbiamo Muevelo e abbiamo Lingua Fuera che si prospettano come i nuovi tormentoni di questa estate 2013. Esatto, in particolare Muevelo abbiamo due versioni, la versione atomica quella standard in più la versione con David Ferrari che comunque è un grandissimo artista con il quale abbiamo collaborato per questo singolo che attualmente sta girando molto bene su Youtube e sulle vari piattaforme. I vostri testi, qual è l'argomento che vi trattate un po' in questo album in modo particolare? Ma diciamo come ogni disco abbiamo, in questo disco specialmente abbiamo 11 tracce e ogni traccia comunque è una tipologia di musica diversa, diciamo che c'è pezzi di reggaeton molto che spingono per l'estate ma in realtà diamo anche spazio alla mia vena un po' più hip hop e alla sua vena un po' più soul. Qual è il modello di artista a cui vi ispirate un po' per i vostri testi? Gli atomici. In realtà ora possiamo rispondere gli atomici perché comunque abbiamo preso un nostro tipo di originalità, ora all'inizio è normale che ci ispiriamo a degli artisti principali cresci con quelli come cresci con tanti tipi di musica diversa, la nostra fortuna appunto è aver reso la musica un po' più nostra dal punto di vista di testi e di musiche. Un consiglio che voi date a chi vuole affacciarsi un po' al mondo della musica e dello spettacolo? Noi non siamo né professori né possiamo dare consigli particolari, continuate a sognare continuate a fare quello che volete, se vi piace una cosa portatevela avanti, se qualcuno vi mette bastone fra le ruote fatevelo da soli come si è fatto noi, quindi speriamo che ci porti bene. Un saluto, fate un saluto ai lettori e agli ascoltatori del giornale di Puglia Web TV. Allora un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori di Web TV dagli Atomici. Bless!